Tra tamponi, quarantene e vaccini, ad una settimana dal rientro a scuola, professori, studenti e genitori sono travolti dalle nuove regole con una gincana quotidiana tra norme e cavilli che inevitabilmente generano confusione. Il risultato è che molte classi finiscono in dad o nel migliore dei casi con la presenza in aula di mezzata per via della quarta ondata che sembra non volersi attenuare almeno nelle aule. Per questo il governo, come fa sapere lo stesso ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi sta lavorando ad una semplificazione insieme con il ministero della salute e comitato tecnico scientifico. Sono i presidi a lanciare l'allarme, la nostra stima, afferma il presidente della NP Antonello Giannelli e del 50% di classi in dad. Grandissimo rispetto per tutti coloro che fanno delle stime, ma i dati li diamo noi e li daremo quanto prima, la replica del ministro Bianchi che parla di situazione gestibile sotto controllo. A chiedere chiarezza sono anche amministratori e governatori, il sindaco di Firenze Dario Nardella appoggia per esempio l'idea di estendere le regole della scuola secondaria anche alla primaria per garantire maggiore presenza in aula. Serve un meccanismo che isola i positivi ma lascia strutturalmente le classi in presenza, gli fa eco il presidente della Toscana Eugenio Gianni.